Ciao amici, volevo condividere con voi l'ennesima vergogna di questo governo. Siamo qua in Senato e mentre noi stavamo votando il Presidente del Consiglio Conte fa una conferenza stampa in televisione dicendo le nuove norme per i ristori delle categorie che sono state colpite dall'ultimo DPCM. Questa è una vergogna secondo noi e secondo me. Non è venuto a riferire, non ha detto niente a quello che è il luogo naturale della discussione che è il Parlamento e è andato in televisione mentre noi stiamo lavorando. Che cosa ne pensate? Io vi dico il mio pensiero, che questo è vergognoso, questo atteggiamento e poi la presa in giro che in televisione i membri del governo e i deputati e i senatori della maggioranza continuano a dire che bisogna essere insieme, che noi dobbiamo collaborare. Ecco il modo che loro hanno la visione della collaborazione. Tenerci qua a votare e Conte conferenze stampa. Vergogna!